E' tornata a galla la questione relativa allo stato di abbandono in cui versa il cimitero comunale di Giarre sito nella frazione di Tre Punti. A scatenare la polemica, è stato un post pubblicato da un privato cittadino su un gruppo Facebook riservato ai cittadini giarresi, in cui si mostrava tramite uno scatto la presenza di abbondante sterpaglia lungo un corridoio di tombe. Non si sono fatti attendere i tanti commenti lasciati dai cittadini, che tra ironia e indignazione denunciano il cattivo stato di conservazione del camposanto giarrese. Rispetto ai mesi scorsi, infatti, è ben visibile la rigogliosa crescita e proliferazione di sterpaglie e piccoli arbusti che intracciano il passaggio a quanti si recano a trovare i propri cari, rendendo difficoltoso raggiungere i loculi più lontani. Il paesaggio che sembra dominare è quello di una natura selvaggia che pian piano sta ricoprendo alcune zone del cimitero, oltre alla presenza di diversi ornamenti funebbi in pezzi adagiati vicino ai loculi. Complice di questa situazione di degrado è sicuramente il cattivo tempo dei mesi scorsi, a cui però vanno aggiunte, a detta di alcuni, l'incuranza dei funzionari responsabili del cimitero, la negligenza dell'amministrazione e l'indifferenza degli stessi cittadini che non denunciano la vicenda perché non fanno spesso visita ai propri defunti. L'assessore ai lavori pubblici, Franco Dirao, afferma che già nelle settimane scorse i giardinieri hanno provveduto alla bonifica e pulizia di alcune aree principali, come quella monumentale, e che lo sterpame rimanente è riscontrabile solo in poche zone periferiche. Aggiunge infine che provvederà ad effettuare un sopralluogo nelle prossime settimane per verificare lo stato dei lavori effettuati ed eventualmente provvedere alla programmazione di ulteriori interventi.